Al primo piano del palazzo Sansoni Trombetta, sede del comune di Pontassieve, si apre al pubblico la sala delle eroine. La sala deve il suo nome al ciclo di affreschi di Ferdinando Folchi, pittore fiorentino nato nel 1822, al quale la famiglia Sansoni Trombetta affidò il compito di realizzare una serie di opere dedicate a geste eroiche di donne, opere che ancora oggi adornano la parte elevata della sala, restituendo un'atmosfera magica che la rende unica nel suo genere. La sala oggi è adibita a spazio espositivo temporaneo per mostre fotografiche e pittoriche, uno spazio che viene utilizzato per dare risalto e lustro sia agli artisti locali già noti che a quegli emergenti. La sala delle eroine, grazie alla terrazza principale del palazzo, offre ai visitatori la possibilità di godere di un'inedita vista su piazza Vittorio Emanuele II.